Il giorno di Giuseppe Parini Allora, attenzione, incominciamo la nostra spiegazione parlando di questo quadro cioè, come mai abbiamo come mai abbiamo scelto questo quadro come sfondo della nostra spiegazione sul giorno di Parini ebbene, la spiegazione si trova sul vostro libro alla pagina 237 c'è infatti un pittore londinese che si chiama William Hogarth che è stato uno degli osservatori più attenti e acuti della realtà del suo tempo quindi del Settecento in particolar modo della piccola nobiltà e della borghesia inglese in piena scesa nella prima metà del secolo una delle sue opere più celebri è la serie di sei dipinti intitolata Il matrimonio alla moda qui trovate, ad esempio il contratto sul vostro libro mentre sulla slide abbiamo scelto un altro di questi sei quadri cioè La mattina perché abbiamo scelto La mattina invece del contratto? Abbiamo scelto La mattina perché a nostro parere gli atteggiamenti del giovine signore e della dama che si possono intuire da questo quadro provate a guardarlo con un certo interesse questo quadro Fanno capire l'indolenza cioè la pigrizia dei giovani nobili ecco oh scusate se sono se vi prendo in giro un pochettino stamattina ve la prendete tanto? no dai non tanto ecco sembrate proprio come quelli che si sbragano un po' al mattino come i miei alunni le mie alunne che al mattino vengono magari dai bagordi lunedì mattina magari dai bagordi della weekend e della serata della domenica eccetera e quindi al mattino sono un po' sbaccati sono un po' si sono svegliati magari hanno fatto fatica a svegliarsi stamattina ogni riferimento a cosa o persone è puramente casuale perché perché i giovani ecco sì il giovane nobile di cui parla Parini è un giovane un po' così che faceva le ore tarde come siete abituati a fare voi no no voi siete delle persone faceva le ore tarde di sera di notte poi al mattino magari un po' ecco un po' così no ecco adesso avete capito che il motivo per cui ci piace il giorno di Parini a noi piace la letteratura ironica ssss silenzio voi che avete letto con me i Promessi Sposi lo sapete abbiamo visto l'ironia manzoniana poi l'anno prossimo vedremo l'ironia sveviana anche Italo Calvino è uno scrittore piuttosto ironico nella nella sua letteratura ci piacciono molto questi anche Gabber ovviamente nella musica ci piacciono molto questi artisti questi letterati eccetera perché fanno capire le cose in questo modo facendoci anche sorridere cioè la loro denuncia il loro sdegno non è così diretto ma passa attraverso l'ironia ebbene quello che avviene nel giorno che è proprio un poema satirico in cui si prende in giro scusate ragazzi si prende per il sedere non volevo dire il giovane signore il giovane aristocratico no? abbiamo quattro parti del giorno le prime due sono pubblicate tra il 63 e il 65 ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato della vita di Parini quando lui ha insomma pubblicato il mattino e il mezzogiorno le altre due lasciate in compiute e pubblicate postume nel 1801 è la giornata tipo di un giovane signore Parini sotto le vesti di un precettore istruisce un giovane nobile sul modo migliore di trascorrere le varie parti della giornata con le attività tipiche della sua classe sociale ogni singolo episodio è occasione di critica e di ammonimento e ci farà sorridere noi martedì leggeremo degli episodi tratti dal giorno di Parini rideremo dei vizi dei difetti di questo giovane ma nello stesso tempo questo ci farà anche riflettere il mattino e il mezzogiorno raccontano con toni scherzosi e ironici spesso sarcastici salotti teatri feste cene cacce e ogni genere di attività dei nobili ormai privi di reali occupazioni e dediti a un vacuo godimento di privilegi acquisiti anticamente ma ormai privi di ogni merito i privilegi a confronto con la vita sana laboriosa e volta all'utile del popolo ecco quindi che l'anno scorso abbiamo letto per esempio proprio l'inizio del giorno serve per contrapporre il giovane signore che si sveglia tardi al mattino dopo i bagordi della notte al contadino che invece si sveglia presto per lavorare o all'artigiano anche il vespo della notte raccontano invece le delusioni l'età la consapevolezza della resistenza al cambiamento il senso di superiore rassegnazione e di stacco del poeta attenzione alcune parti del vespo della notte furono scritte quando ormai era già scoppiata la rivoluzione francese e quindi hanno un tono particolare un tono di ormai decadenza diciamo di questa nobiltà che sta perdendo il potere ma che viene osservata a questo punto da Parini con uno sguardo quasi amorevole quindi con un senso dicevamo di rassegnazione e di distacco allora qui dicevamo il progetto cambia più e più volte a un certo punto era di tre parti cioè mattino mezzogiorno e sera poi diventa di quattro parti perché la sera viene divisa in vespero e notte è un poema in decasire bisciolti vuole rappresentare satiricamente la nobiltà del suo tempo descrive la giornata del giovin signore e della nobiltà milanese l'autore è il precettore vuole insegnare come riempire piacevolmente i vari momenti della giornata vincendo la noia che affligge il giovin signore dal momento che lui è un parassita non fa niente non è attivo non lavora vive nella noia più totale deve cercare di riempire questo vuoto osserva la sua realtà al microscopio in un tempo limitato una giornata solamente tra il sveglio e il tramonto e in uno spazio chiuso la stanza la sala da pranzo la carrozza il tono è ironico cioè finge di approvare di condividere appunto il modo di pensare di vivere del giovin signore in realtà lo critica aspramente in questo modo però dicevamo ironico in particolar modo nel mattino il nobile si sveglia a tarda mattina dopo una notte di bagordi e dopo una toeletta lunga e laboriosa si dice a un certo punto non è pulito ma bello perché la cosa importante è l'apparenza no? non faceva niente se magari lui non era pulito ma questa toeletta non serve per pulirsi per lavarsi ma serve solo per apparire in un certo modo si reca a trovare la sua dama la sua donna in realtà non è una donna di cui è innamorato ma è una donna con la quale condivide il modo di vivere insomma ecco questo è il giorno diviso in quattro parti perché dici come dovrebbe essere? il precettore dà degli insegnamenti tu dovresti vivere così però intanto mentre ci racconta come in realtà il nobile vive ci fa capire che vive male insomma capite? si reca a trovare la sua dama come ogni cavalier servente cavalier servente cicisbeo sono personaggi tipici del tempo del settecento no? cioè sono degli amanti chiamiamoli così no? e quindi che instaurano questi rapporti estremamente superficiali con le donne il mezzogiorno ecco finalmente il mezzogiorno trova la sua dama si incontra con lei e pranza con lei con una folla di persone nobili ma volgari nel modo di vivere di comportarsi il tintinio di oggetti preziosi ecco questa tra l'altro è la parte del giorno in cui si racconta la storiella della Vergine Cuccia cioè di come la dama che è molto come dire legata alla sua cagnoletta la sua cuccioletta che chiama così Vergine Cuccia delle Grazie Alunna a un certo punto ha licenziato un servo per il semplice fatto che il servo aveva scalciato la cagnolina quando la cagnolina gli aveva morso un piede poi questo comunque è un brano molto interessante il secondo brano sulla vostra antologia che abbiamo spiegato l'anno scorso in un'altra classe Il Vespero Il Vespero racconta la passeggiata sul corso al luogo di Pettegolezzi unica concessione ad uno spazio aperto in un poema in cui come abbiamo detto prevalgono gli spazi chiusi La notte racconta la visita ad amici malati occasione per criticare e non per confortare Le scelte stilistiche del giorno di Parini il linguaggio utilizzato è eletto prezioso aulico dicevamo in De Cassilla Bisciolti dicevamo del classicismo neoclassicismo di Parini e questo emerge chiaramente è una lingua insomma che dobbiamo un po' tradurre tra virgolette lo vedremo la volta prossima quando leggeremo questi versi di Parini vi è un continuo uso di enjammant e aggettivi in funzione esortativa usa termini iperbolici per celebrare il vuoto dell'aristocrazia quindi utilizza non solo l'antifrasi ma anche termini iperbolici proprio per esagerare per farci capire insomma come critica quel mondo paragone i nobili a semidei quando compiono i gesti più banali come sbadigliare o bere una tazzina di caffè al mattino il giovane signore deve scegliere fra caffè cioccolate cioccolata eccetera latte e via discorrendo l'ozio frivolo dei nobili all'ozio frivolo dei nobili contrappone l'operosità dei contadini e degli artigiani abbiamo detto nel proemio possiamo dire del giorno che si dedicano ad attività utili alla loro famiglia e a tutta la comunità ecco la volta prossima leggeremo del fate largo al giovin signore è un brano in cui si racconta di come alla fine del mattino il giovin signore salta su in carrozza e a velocità esagerata va all'incontro del pranzo del mezzogiorno insomma dove incontrerà la sua dama e mangeranno insieme ecco questa è l'occasione per raccontare di come spesso i plebei siano travolti dalle ruote delle carrozze lanciate a folle corsa esattamente come quella del giovin signore poi come ho già detto l'episodo della vergine cuccia il servo è licenziato e probabilmente la sua famiglia poi costretta a mendicare forse moriranno di fame per il semplice fatto che ha dato un calcio alla cagnetta che l'aveva morso e dovrà chiedere l'elemosina i mendicanti affamati si accalcano intorno al palazzo patrizio per annusare almeno l'odore dei cibi questo è un altro brano del giorno che vorremmo leggere la prossima volta la nobiltà si preoccupa insomma solo della sua vita futile e oziosa e ignora i drammi del mondo vero attivo e poeroso della plebe insomma trattata ingiustamente trattata malamente qui alcuni versi tratti dal vespro per esempio il precettore accompagna nel vespro il precettore accompagna un giove signore la sua dama in visita ad un amico malato e ad un'amica che appena ha avuto un attacco di nervi suscitando tra i nobili infiniti pettegolezzi ancora un altro frammento i due amanti si recano al ricevimento qui sono evidenziate le consuete attività svolte dagli aristocratici si nota inoltre una coppia di anziani signori che per combattere la noia giocano a carte insomma il vespro e la notte ci sono pervenuti mutili cioè frammentari abbiamo poche centinaia di versi di questa seconda e terza parte del giorno ma ci fanno capire un po' qual è il modo di vivere dei nobili qui però la polemica diventa più tenue rispetto al mattino al mezzogiorno dove erano più evidenti gli strali nei confronti della nobiltà qui abbiamo abbiamo detto quasi un atteggiamento di più moderato insomma nel vespro nella notte è vero c'è la condanna di una classe oziosa e improduttiva ma c'è la scomparsa della volontà pedagogica c'è insomma la descrizione delle attività degli aristocratici la sera è il senso dell'inarrestabile declinare dell'età e anche se vogliamo il senso dell'inarrestabile declinare del potere degli aristocratici pone Parini in queste ultime due parti del giorno più in sintonia quasi con la classe nobiliare aristocratica quasi come se la voglia maggiormente giustificare in queste ultime due parti abbiamo come stile dicevamo l'accentuarsi del classicismo soprattutto poi nel vespro nella notte che sono state fatte proprio nell'ultimo periodo che è il periodo neoclassico abbiamo visto dell'opera di Parini la scomparsa delle arditezze linguistiche la fluidità della sintassi la ricerca di compostezza equilibrio ed armonia sono tutte caratteristiche che noi vedremo sono tipiche del neoclassicismo il neoclassicismo si contraddistingue proprio per questo cercare di essere sempre più classico lineare fluido composto equilibrato armonico così come erano gli artisti classici ad esempio gli scultori classici che hanno fatto quegli straordinari capolavori bene questo è invece già riguarda quello che spiegheremo la prossima volta cioè il primo brano che leggeremo che sarà quello fate largo al giovin signore abbiamo terminato adesso l'introduzione al giorno avete delle domande da fare sul giorno di Parini bene 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 bene